10 secondi 5 secondi, dai un po' Unite, Scarlato e Violetto, Pokemon Go, Pokemon Sleep Ok Messo al massimo il volume Notizie del mondiale Sente bene, si Confermatemi Ok, dopo 3 anni Figata Heavy Night Unite Unite Ok, dopo 3 anni Ok, dopo 3 anni Il trofeo Il trofeo No, vabbè, è bellissimo Ma è bellissimo Ma è bellissimo Thank you We look forward to seeing you in London and now I would like to hand it back to Mr. Utsonomia Lo voglio Oh Thank you very much Mr. Brown With the Pokemon World Championships returning after 3 years, please look forward to exciting battles to keep you on the edge of your seats. Now I'd like to share some news about a few of our games For the first time Ok Ok And this weekend we will be holding an event in Sapporo Japan Mysterious creatures known as ultra beasts Unite creature Vabbè, di Pokemon Go Io ci gioco, eh, tra l'altro Unite ан Questa l'avevo visto qualche giorno fa Sì Ragazzi tutto questo per Pokémon Go Moglie dei Unite che dicono Eccolo Eccolo Unite Tutte le cose che abbiamo visto Ok Tutti con Pikachu Con Pikachu Gigox Bellissimo Questo lo sapevamo È solo l'inizio Questo l'abbiamo già visto Immagino sia finito qua Sì Va bene va bene Non ci dico niente di nuovo purtroppo Però Questo è rosso Ah Pokémon Masters Addirittura È vero Ci giocavo fino No ci ho giocato qualche mese fa Però non mi ha preso granché Masters Ah non dico niente addirittura di questo Proprio Oddio Mewtwo Che è il film Eh? Che è questo? Mewtwo è il film Qualcuno ci gioca a poco a un caffè Non ne ho idea Vabbè ragazzi teniamoci pronti per Scarlatto e Violetto Perché secondo me dicono tutto Cioè Dicono un botto di roba su Scarlatto e Violetto Secondo me ne dicono veramente tanta roba Keep on mixing the Pokémon to rack up those combos Use these tips and make delicious drinks and dishes And you should be able to satisfy Mewtwo We hope you'll give one minute cooking a try And there's more! Following Latios who just appeared today Latios will also appear in the future Wait! There's even more! We have a special campaign underway starting today This is your chance to get Victini and Latios on your staff Pokémon Cafe Remix is available at no cost to start And is playable on Nintendo Switch systems and mobile devices Vediamo vediamo Mo Eccoli Finiamo a guardarlo Poi magari parliamo di tutto Ditemelo anche nei commenti che ne pensate ragazzi Unite purtroppo è stato Trattato poco però Eccolo Eccoli Il trailer non corrisponde all'effettiva esperienza di gioco Attenzione Ok Cinematic Quella che abbiamo già visto La cattedrale E li cavalchiamo Paldea E il nome è Paldea E cavalchiamo I leggendari Volano pure Pure in acqua Tutto Pit stop San Flore The Pokemon Figo però Gli interni Tanta roba Madò Chi è questo? Chi era quello? Guarda Non mi dire Non mi dire che è stile MMO Cos'è? La meccanica La meccanica Oddio Cos'è? No Una sorta di Mega Dragonite pure Una sorta di Mega Evoluzione Cos'è? Che cos'era? We're now starting to get a clearer picture of your adventures to come in the Paldea region I'd like to dive a little deeper into the information presented Certo 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 The newest titles in the Pokemon series are the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games These titles will be open world RPGs a first for the Pokemon series Sprawling landscapes and vibrant towns weave together to form the Paldea region where your new adventure will unfold Ingroppa un Pokemon leggendario These are the legendary Pokemon Coridon and Miridon You'll rely on one of them as a partner in your adventure Climb on And together you'll dash across grassi field Move across water And glide through the sky Your partner can change forms as needed while you explore every nook and cranny of the region with them Ovviamente la metteva sotto lì Non ci credo No Che significa create la storia che preferite Non mi dire che è libero Non me lo dire È pazzisco Non me lo dire è pazzisco Vabbè otto palestre ok Non c'è Non c'è l'art di specifico Non c'è l'art di specifico Ovviamente è chi fa spoiler bannato eh in chat Io non ho visto un cazzo Zim Nemi Pepe Pepe Ma è in base se li affronti per primo o per ultimo No Vabbè Il Pokémon è anche chiamato la regione Paldea Il Pokémon è la regione Paldea regionale di Whoopera L'avevo visto che era diverso Ok Il figlio è un poesone film Fido è un poesone È bellissimo E' lui Evoluzioni Evoluzioni No Le chonk Oh vediamo questo come funziona Multigiovatore Come funziona Quindi è effettivamente un MMO Vabbè Limitato ovviamente Terastalize Il fenomeno terastal Che fa i Pokémon brillare come gemmi Una sorta di mega evoluzione Qualcosa del genere Chi è questo? Ah Tutti Pokémon Tutti Pokémon Tutti Pokémon Un poesone è un poesone tipo, e rendere i movimenti più forti. Alcune Pokémon cambia tipo quando terastalize. Quali tipo di divo deve diventare sembra di un pochino terratype. Per esempio, un Eevee would typically remain normal type after terastalizing, ma there could be Eevee che diventano grassa o water-type dopo il terrastalizzo. Nooo! Ma che dici? Ma che dici? I Raid Terra Crystal pure! Pokémon che hanno rare Terra-types sono più probabilmente di apparire in Terra raid-battles. Puoi affrontare Terra-Pokémon in queste battlie con più di tre altri Trainers. Questo è un nuovo tipo di raid-battles dove puoi attaccare o heal con il tuo stesso tempo, senza aspettare per i tuoi allievi. Ah, tipo Pokémon GODI! C'era di cooperare con i tuoi allievi per ottenere l'upper hand in queste battaglie. Dopo che successivamente vedi un Terra-Pokémon, avrai l'opportunità di capirla per te stesso. Bellissime le animazioni, porco due! Ma che stiamo guardando? È bellissimo! Io spero non laghi, io ho tutti questi cristalli che... Switch! Abbiamo mantenuto tutte le cose che ti piace su Pokémon mentre evolvendo l'adventura che puoi avere in Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Spero che ti aspettiamo al giorno che hai avuto sulla tua avventura. Vabbè. 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 Che cos'è questo? Un picco speciale. Un picco speciale. Mi iscriverò di certo. Questo è tutto per la presentazione di oggi. Grazie molto per attivare e guardare. vuoi sì. Come ti fa vedere? Ma che abbiamo visto? Ma che abbiamo visto? Ma che figata è! Finito!